Grazie, mi sembra che gli argomenti e di suggestioni ce ne siano tanti. Non so se vuoi metterti lì per evitare la condizione di subalternità, diciamo. E poi magari tu intervieni, poi se ci sono qualche altra domanda, suggestione, oppure rifacciamo un piccolo giro. Insomma, vediamo un attimo. Vai. Allora, a proposito della giustizia penale, parto subito dalla citazione di Carrer che ho fatto vedere prima ad Antonella. Man mano che leggo cose, qualsiasi cosa mi capita, poi me la memorizzo, diciamo ovviamente. Nel suo ultimo libro, il famosissimo V13, Carrer scrive è sempre più o meno così la giustizia. Il codice penale è stato inventato per impedire ai poveri di derubare i ricchi e il codice civile per permettere ai ricchi di derubare i poveri. Quindi questo, diciamo così, giusto perché è bene tenersela a mente, diciamo, queste che sono, diciamo, verità storiche quasi inoppugnabili. Poi al di là delle opinioni, del fatto che uno vorrebbe che il mondo fosse diverso e che invece la giustizia fosse buona, eccetera, però poi alla fine, diciamo, così è. Allora, intanto ovviamente vi ringrazio molto, ringrazio molto Antonella, Patrizio e Tamar per le letture che hanno fatto il libro, ma ringrazio molto la Fondazione Gramsci e il direttore Francesco Giasi per questa occasione di discussione che veramente mi fa molto piacere ed è stato molto interessante. Allora, sì, io per quella, diciamo, incapacità disciplinare, non so se sono indisciplinato, è proprio che io non ce l'ho, diciamo, la disciplina è perché ho quella storia, diciamo, un po' complessa che diceva prima. prima Patrizio e ci metto tante cose, ovviamente, dentro le cose che scrivo che non sono necessariamente degli apporti, diciamo, filologicamente corretti dentro un ambito disciplinare, ma che, diciamo, rispondono alle mie urgenze, diciamo, all'urgenza che qualcuno, diciamo, per qualche ragione mi pone. e anche cercando, diciamo, di fare qualche sforzo teorico più importante non riesco a non partire dai fatti ed è questa la ragione per cui sono tornato, diciamo, sì, sui dati, sugli elementi di realtà, diciamo, e a partire da quelli ho cercato di leggere, interpretare i cambiamenti i cambiamenti di questi anni. E quel dato, comunque, appunto, che vorrei che restasse, diciamo, per quanto magari nella piccolissima comunità di chi si occupa quotidianamente di carcere è ormai abbastanza consolidato, però invece è più, anche soltanto superando, appunto, i confini della comunità degli specialisti, no. Quel dato del cambiamento nella vicenda dell'esecuzione penale in Italia negli ultimi trent'anni è un dato, diciamo sì, così macroscopico che secondo me non si può, non si dovrebbe poter parlare di giustizia penale in Italia ignorandolo. Cioè, noi, da quando è nata la Repubblica, fino al 1990, a prescindere da quello che succedeva, repressioni di massa dei contadini negli anni 50, conflitti sociali, lotta armata e qualsiasi altra cosa, abbiamo avuto una popolazione detenuta oscillante tra le 20 e le 40 mila persone al massimo, al massimo, nei momenti, diciamo così, di più gruda repressione, 40 mila persone. A partire dal 1990 ad oggi la popolazione è venuta e in esecuzione penale, appunto, con il meccanismo a cui faceva riferimento prima Tamar del net widening, dell'allargamento della rete, la popolazione sotto qualche forma di controllo o di repressione penale, arriva oggi a 140 mila persone. 140 mila persone. Ora, è anche vero, diciamo così, peraltro verso, che la popolazione, non in questi ultimi anni, perché abbiamo questo incubo della crescita zero, diciamo così, però in altri anni è cresciuta, ma non è cresciuta in modo da giustificare la moltiplicazione per quattro volte e mezzo delle persone sotto controllo penale. Questo è un dato enorme, diciamo così, ed è un dato totalmente ignorato, per esempio, nel dibattito pubblico sulla giustizia. Ora siamo nel pieno, diciamo così, di uno dei rituali ciclici, diciamo, discorsi sulla giustizia penale, la riforma giustizia penale, ne abbiamo appena depositato l'ennesimo, e ovviamente è una cosa che non tiene minimamente in considerazione tutto questo, parla di altre cose, poi si può essere più o meno d'accordo, ora non ci entro nel merito, ma questa cosa è totalmente ignorata. Allora, questa cosa è un fatto che va compreso nel suo significato e nelle sue dimensioni. Come mai tutto questo è accaduto? E nel come mai tutto questo è accaduto? Poi cadono tutte le cose che, le spiegazioni semplici che abitualmente vengono date, no, appunto. È aumentata, diciamo così, la criminalità? No, non è vero, non è aumentata la criminalità, nonostante sia probabilmente aumentata la popolazione, rispetto agli anni 60 e 70, non è aumentata la criminalità. E allora come mai? E questo, diciamo così, è la cosa che ci interroga sul fatto che, evidentemente, diciamo così, c'è stato un cambiamento profondo che non ha a che fare con i codici della pena e del diritto penale, ha a che fare, viceversa, con le domande sociali che sono rivolte al sistema della giustizia penale. Per cui ci potevamo permettere nella Prima Repubblica 21 provvedimenti di clemenza generalizzate senza che alcuna forza politica temesse il disdoro e il tracollo elettorale. Perché così era, no? No, noi negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un provvedimento di clemenza generalizzato nel 2006, il cosiddetto indutto del 2006, al tempo a me è capitato, diciamo così, di lavorare in quel periodo al Ministero della Giustizia come caposegreteria dell'allora setto segretario, delegato all'amministrazione violidenziale, che era il solito Manconi, diciamo, siamo una coppia di fatta, diciamo. E ricordo, diciamo, che cos'è successo quando è stato approvato quel provvedimento? Cioè, è venuto giù il mondo, no? Tutti gli organi di stampa erano alla caccia degli indultati che venivano riarrestati e ovviamente ne venivano, diciamo così, enormi titoloni sui giornali. Cioè, questa è una cosa che racconta di come è cambiata la società, di come è cambiata la politica, e quindi, diciamo così, in qualche modo, di come il penale torna a essere ripensato in funzione del modo di essere della politica e della società. E allora, diciamo, se così stanno le cose, gran parte delle cose che io dico e scrivo sono state scritte, e vengo, diciamo così, a quei siti che Antonella, Patrizio e Tamer mi hanno posto, che poi mi sembrano, diciamo così, abbastanza in linea gli uni con gli altri, l'uno con l'altro, io non penso che sia, appunto, penso che anche ora, per dirlo con Tamer, il carcere non sia riformabile, nel senso che l'aspirazione del carcere umano è, diciamo così, una tendenza positiva che dobbiamo in qualche modo coltivare, perché io, diciamo, nella gran parte del mio tempo non leggo uno studio, diciamo così, faccio il garante dei detenuti, e quindi devo rispondere alle domande di quelli che stanno in galera, non è che gli posso dire ora, poi, dopo, ci sarà un giorno in cui finalmente le carceri non esisteranno più, quello sta in galera oggi, diciamo, quindi gli devo intanto rispondere, diciamo così, oggi, e quindi, diciamo così, perseguire l'aspirazione costituzionale a una pena dignitosa va fatto, diciamo così, non so come dire, è un'urgenza a cui non ci si può sottrarre. Detto questo, però, l'aspirazione a una pena che non sia quello che dice di essere, cioè una pena, una sofferenza, questo è una cosa che appunto storicamente abbiamo potuto verificare non si dà, diciamo così, appunto, i primi movimenti per la riforma del carcere nell'Inghilterra vittoriana capitanati da John Howard e sono movimenti che iniziano, diciamo, alla fine del Settecento, diciamo, e non arrivano, diciamo, e ancora oggi c'è una grande associazione in Inghilterra intitolata John Howard che fa la stessa cosa, diciamo, che ci spera, diciamo. Allora, che significa questo? Significa dunque che non c'è, non c'è, diciamo sì, speranza di salvezza, diciamo, ecco. Significa che è impossibile, questa è la mia opinione, è impossibile pensare alla riforma del carcere o alla riforma del sistema penale o fin anche, diciamo così, alla giustizia trasformativa, diciamo così, che ci libera dal penale se, diciamo sì, il nostro obiettivo non viene perseguito fuori i confini del penale. Punto. Semplicemente questo è il problema. Allora, o, diciamo, si ricostruisce un discorso che ha, un discorso pubblico che ha a che fare con, diciamo sì, una diffusione dei principi, dei valori, della dignità della persona, della universalità dei diritti e quant'altro, diciamo, no? Che ha quella dimensione che nella carta costituzionale c'è, ma che, come è noto oggi, diciamo sì, non gode di grande favore. O altrimenti l'idea che si possa riformare il carcere da sé, diciamo, è una cosa che non sta in piedi, diciamo. Fare, seguire progetti di giustizia trasformativa, io non ne sono, non sono ferratissimo, non ho letto ancora le cose che Tamar mi ha detto di aver letto, diciamo, quindi ci devo, ci devo pensare ancora. Ma sono cose che si fanno se si fa, diciamo così, una, diciamo sì, una politica di ricostruzione dei legami sociali e delle relazioni tra le persone nelle comunità, altrimenti quelle cose ovviamente sono destinate a fallire e a essere, diciamo sì, compensate dal Moloch del penale, che ha quella grande forza simbolica che diceva Tamar e che, diciamo sì, in qualche modo è dentro la cultura ancestrale delle nostre comunità, perché poi alla fine è il rito sacrificale, la pena funziona, piace, diciamo, si svolge quella funzione di rassicurazione e di consenso in presenza di soggetti politici che non hanno, diciamo sì, un radicamento sociale tale da poter resistere, diciamo sì, alle pulsioni che sono dentro la società. Funziona esattamente, diciamo sì, perché riproduce il rito sacrificale e quindi l'idea che la comunità possa liberarsi dal male attraverso il sacrificio dell'agnello di Dio. Questo è, diciamo. Allora, per, diciamo sì, contestare questa cosa è chiaro che, diciamo sì, non c'è nessuna tecnicalità giuridica o umanitaria che funziona, diciamo sì, no? C'è solo la capacità di trovare altri luoghi, altri modi di produrre giustizia nelle relazioni tra le persone. Non la giustizia civile né quella penale di cui parla Carrer, ma la giustizia umana, l'idea di giustizia che in qualche modo dentro la comunità si può coltivare. E quindi io penso che questa sia, diciamo, se ci mettiamo nella prospettiva, diciamo sì, del che fare, questa è l'unica alternativa. Io penso, e qui vengo alle cose che diceva Antonella nella sua introduzione, io penso, e forse anche a una riflessione critica di Tamar, io penso che noi abbiamo perso delle occasioni in anni recenti. Questo, anche questo, cioè le periodizzazioni servono anche a questo, cioè questi trent'anni non è che sono stati sempre uguali a loro stessi, diciamo sì, no? Non sono stati sempre uguali a loro stessi, la grande crisi economica del 2008 è stata una crisi che, diciamo sì, avrebbe potuto produrre un discorso e un modo di stare insieme, di fare politica, di rispondere, diciamo sì, alle domande sociali diverse, e noi ne abbiamo avuto qualche piccola traccia nella nostra storia nazionale, ma che poi non è stata colta, e ovviamente ne abbiamo avuto il riflesso dentro il mondo carcerario. Io quando parlo della giurisprudenza umanitaria e sottolineo il valore della giurisprudenza umanitaria, cioè di una giurisprudenza delle corti superiori che non guarda più solo come per esempio in Italia è stato per tanti anni alla finalità rieducativa della pena, perché la finalità rieducativa della pena era strettamente intrecciata a un modello di stato sociale. Nel momento in cui il modello di stato sociale universalista diventa recessivo, come si fa a pensare che debba resistere un pezzo di stato sociale dentro le carceri rivolto a quelli che sono i peggiori di tutti? Perché quelli che stanno in carcere sono quelli che oltre a essere brutti e sporchi per condizioni sociali sono anche cattivi legalmente. Quindi è chiaro che quella cosa lì non può funzionare dentro un modello sociale in cui viceversa si afferma il principio meritocratico della dignità. Cioè tu hai dignità in quanto te la meriti non perché è di tutti. questo è il cambiamento che c'è stato in questo trentennio legato all'ideologia neoliberale. Allora appunto com'è possibile pensare di tutelare quella idea rieducativa qualunque cosa essa significasse diciamo dentro un contesto di questo genere? Non è proprio possibile. quello che resta e quello che è stato fatto valere diciamo sì con quella giurisprudenza è la difesa della dignità della persona. È stata in qualche modo diciamo sì una trincea su cui si sono attestate le corti costituzionali le corti superiori. Poteva diventare diciamo sì il meccanismo con cui si metteva si rimetteva in discussione il questa diciamo così il pampenarismo l'idea che il carcere fosse l'unica soluzione per disciplinare la marginalità sociale forse lo poteva diventare diciamo sì in quei pochi anni in cui il sistema è stato è stato in crisi e però diciamo non è stato così diciamo il treno è passato con qualche sentenza di qualche corte ma non è stata una riconsiderazione del sistema perché è mancata la risposta secondo me politica generale non perché è mancata la risposta tecnica sul penitenziario perché se non c'è una risposta politica generale sull'universale dignità delle persone non si può arrivare alla dignità universale dei detenuti che sono quelli diciamo sì per definizioni più discriminati probabilmente un'altra occasione l'abbiamo persa con il covid non se ne parla più del covid diciamo se non per ricordare una cosa cattiva che è giusto diciamo sì levarsi alla testa però anche il covid è stato il segno di un di un sistema che non funzionava eppure anche quello diciamo sì è stato diciamo sì ormai bellamente diciamo sì bellamente rimosso ecco io penso che se si vuole fare i conti con i problemi del del sistema penale nel suo complesso bisogna leggerlo come un pezzo del sistema sociale complessivo e quindi o si danno risposte politicamente adeguate diciamo sì alla crisi sociale delle nostre società o altrimenti diciamo sì il carcere non può che continuare a riprodurre se stesso cioè ad essere una macchina di disciplinamento dell'esclusione sociale quello che nei fatti è e in gran parte quello per cui è stato pensato grazie grazie